I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un 28enne palermitano già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Le indagini del nucleo investigativo sono scattate immediatamente dopo una sparatoria avvenuta alla Vuciria la sera dello scorso 18 marzo. L'immediata e puntuale ricostruzione dei fatti ha consentito agli investigatori di appurare che in quell'occasione l'indagato, al culmine di un alterco con un 35enne palermitano, ha estratto un'arma da fuoco e ha sparato a quest'ultimo ferendolo a un braccio. Sfuggito alla cattura lo scorso 26 marzo, grazie a una serrata attività investigativa, è stato individuato e fermato nel corso della mattina di Pasqua. Non è sfuggita ai carabinieri, impegnati nelle ricerche, la tentazione dell'uomo di prendere parte al tradizionale pranzo pasquale in famiglia ed è stato rintracciato nell'abitazione dei genitori nel quartiere Capo. L'indagato si trova attualmente presso il carcere Lorusso Pagliarelli in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La vittima, che si era recata al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo con una ferita da arma da fuoco al braccio, dimesso con una prognosi di 15 giorni, è stato tratto in arresto in esecuzione di un analogo provvedimento per favoreggiamento personale in quanto aveva dichiarato agli investigatori intervenuti all'ospedale di essere stato vittima di una rapina, celando quindi la verità sui fatti e favorendo in concreto il suo assalitore.